Oggi hardcore super pericolosa e già qua vedete una pozza d'acqua che c'entrerò e ovviamente succederanno cose molto pericolose e la casa ovviamente la costruirò in cielo perché appunto tutto questo dovrà essere super pericoloso. Non staremo attenti alla sicurezza, sicurezza ma che cos'è in questo mondo di Minecraft? Non esiste, noi volendo possiamo anche proprio finire l'ossigeno e continuare a scavare e rischiare di morire. Quindi ovviamente se ci muoiamo ragazzi io vi ricordo, ve lo ricordo che qua perdiamo tutto, però effettivamente devo stare un po' attento perché se ci muoio veramente poi dopo finisce la serie e non va bene vado immediatamente a prendere il cibo perché per fare cose spericolate e sappiamo tutti abbiamo bisogno di tanto cibo per recuperare tanta vita. Qua vicino però io ho sentito delle mucchettine, salve signora come sta? Tutto bene? C'è una melina? Qua sotto è proprio bello, ci entrerei volentieri. Salto sugli alberi, arriva lo squalo pesciolini! Ovviamente se voi me lo scrivete nei commenti io posso mettere anche tipo dei mostri che mi cacceranno in questo mondo. Ben 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 oh è lo spericolaggine dentro di me raga e guardate che il sole sta scendendo e fra poco arriva la notte, fra poco arriva... Lì abbiamo un villaggio eh bene raga che figata però sto posto qua ci costru... no non possiamo costruirci la casa abbiamo detto che la dobbiamo costruire in cielo perché se cadiamo da lì moriamo quindi è spericolato però però qua ci costruiamo assolutamente qualcosa. Vabbè dammi le canne da zucchero molto buone. Ho preso il letto però e qua c'è anche un maialino! Signori villager non vi ucciderò perché giustamente mi servite però vi avrei ucciso altrimenti. Albero a punta, cappello a punta, naso a punta... E non vi dico che cos'altro perché sennò a punta. Qua però abbiamo un sacco di civetto eh signorini. Oh che benessere! Mangia 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 mangia. Noi dormiremo all'esterno in hardcore perché non ce ne frega niente del caldo. Cioè volevo dire dei mostri. C'era un signore che però da lì mi spiava mentre dormivo. Signore! Viene col suo naso a punta? Raga ma quanti balle ci sono? Sto rompendo le balle in questo caso. Le balle di fieno giusto? Comunque il signor Iron Golem avrà troppe cose a punta eh. E' arrivato il momento di avvicinarsi a questo posto veramente incantevole. Chiamato Pillager Post. Il post più pauroso per i novellini di Minecraft. Ma io che sono un novellino di questo mondo e sono assolutamente uccidibile in modo molto semplice purtroppo. Ehm ho deciso di entrarci e di ammirare la generazione del mondo completamente senza senso. No e no. Raga no. Raga è troppo troppo spericolaggine. Troppo troppo troppo. Ma non preoccupatevi perché Dunice ha tutto sotto controllo. Dunice è esperto di questi combattimenti. Combattimenti. E perché ho fatto il Master dovete sapere. Oh madonna santa pillora. Allora ho fatto il Master in combattimenti contro i Pillager. Si chiama così. Allora a parte le cavolate. Il Master però non sta fruttando molto perché. No raga 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 mi stanno uccidendo. Male. Ma proprio male. Aia. Dolore. Dolore uguale morte. Dolore uguale morte. Morte uguale dolore. Dolore uguale morte. Uguale morte. Morte. Morte pericolosa. Morte uguale perdita per sempre della serie. Via. Santa Maria delle Mole aiutami tu. Porco il Signor. Raga 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 raga. 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 Raga ve l'ho detto io che era pericoloso. Io ve l'ho detto. Ve l'ho detto. No lo fai a tua sorella non a me. Raga mi stavano uccidendo male. Però adesso tranquilli che tanto ho la. Madonna sa che spavento che caga ma che sto qua è un pazzo eh. Raga è un pazzo. Raga ma avete visto che. Ma raga ma è assurda sta cosa vi giuro ma da quando è che hanno migliorato così tanto. Minecraft. Raga. Ok bene. Bene. Sono ancora vivo. Ok. Bene bene bene. La nostra azione spericolante di oggi l'abbiamo fatta. Cosa abbiamo raccolto? Beh niente. Dai pillager assolutamente niente anche perché avevano una struttura completamente devastata per colpa del mondo. Vero signora punta? Se volete vedere altri spericolamenti iscrivetevi al canale amici. Ricordatevi di lasciare tantissimi like proprio ora. Fatelo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.